C'è una semplificazione per ognuno, per chi mette a disposizione l'appartamento, per i clienti, per IMB, per noi e nello stesso tempo diciamolo si combatte anche un pezzo di nero consistente che comunque c'è in questo settore. Un settore in rapidissima espansione che noi siamo interessati a governare positivamente mettendo a disposizione della città risorse e occasioni. Con l'accordo tra il Comune di Napoli ed Airbnb, il maggiore operatore online di prenotazione di soggiorni extra alberghieri, diventa automatica la riscossione dell'imposta di soggiorno pari ad un milione e mezzo di euro all'anno. Una misura per la semplificazione contro l'evasione che partirà dal primo maggio. Airbnb verserà ogni mese l'imposta riscossa al momento della prenotazione e cui parata gli alberghi a due stelle, quindi pari a due euro a persona a notte. Sono soggiornato in città con tassi di crescita enormi. Napoli si unisce così alle oltre 340 amministrazioni nel mondo che utilizzano questa semplificazione ed ora punta ad estendere la convenzione anche a tutti gli altri intermediari turistici. Questo vuol dire semplificare la vita per chi condivide la propria casa, per i viaggiatori che quindi non dovranno più pagarla magari cash o contante, la pagheranno direttamente al momento della prenotazione e ovviamente una facilitazione anche per l'amministrazione che potrà quindi avere un interlocutore unico nella piattaforma e soprattutto non è possibile in alcun modo evitare di pagare la tassa di soggiorno. La tassa di soggiorno che ovviamente è uno degli strumenti più importanti che abbiamo da reinvestire in cultura e turismo per la qualificazione dei nostri servizi. Poi serve anche a farci conoscere la dimensione di questo fenomeno dell'ospitalità diffusa che è una grande opportunità, una caratteristica molto importante del fare ospitalità che però richiede un governo perché dobbiamo fare in modo che tutto sia finalizzato alla soddisfazione del turista. Quindi questo grande impetuoso sviluppo che abbiamo avuto in questi anni deve essere governato e io vorrei sottolineare che insieme a questa iniziativa abbiamo per esempio istituito un tavolo per lo sviluppo sostenibile che è uno degli aspetti più importanti del nostro lavoro perché dobbiamo impedire che fenomeni speculativi snaturino le caratteristiche in particolare del nostro centro storico che fanno una parte importante e forse direi cruciale del fascino attrattivo della nostra città.